10 anni di vita ed un nuovo simbolo aziendale per Difesa Servizi S.P.A., la società che cura la gestione economica del patrimonio delle forze armate. Adriano Montibuzzetti. Un'identità visiva rinnovata e un motto ambizioso, generiamo valore, per riassumere simbolicamente al giro di Boa del suo primo decennio la storia di successo di Difesa Servizi. Nel presentare con orgoglio il nuovo logo a Venezia, nell'arsenale della Marina, insieme al sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli, la dirrecchia e i vertici della società hanno ripercorso l'identikit della struttura. S.P.A., con socio unico, il Ministero della Difesa, sua è la gestione economica di beni e servizi legati alle attività del digastero, dalla gestione degli immobili alla messa a reddito delle strutture militari per la produzione di energie rinnovabili, dalla valorizzazione commerciale di marchi e segni distintivi delle forze armate, alla promozione di attività legate a settori come la meteorologia, la geocartografia, la fotoriproduzione aerea e satellitare. Un ampio ventaglio di iniziative per esaltare il valore dell'Italia in divisa, senza gravare sulle casse dell'erario, come ha ricordato il Ministro della Difesa Guerini nel suo videomessaggio beneagurale. Innovazione da un lato e grande concretezza dall'altro, voglio ricordarlo senza costare un euro in più alla pubblica amministrazione, anzi recuperando risorse, raggiungendo risultati concreti e riconosciuti.